Il ciclope torna al comune di Camerota, la grutta Capraia che da decenni ospita il noto locale notturno grazie ad un contratto di fitto tra la società al ciclope SRL e il comune cilentano potrebbe avere presto una nuova storia. Il 4 ottobre la responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Camerota, l'architetto Antonietta Coraggio, su indirizzo del sindaco Mario Scarpitta, ha dato il via all'annullamento in autotutela del contratto di affitto. Il locale, ricordiamo, è chiuso da due anni dalla tragica morte di Crescenzo della Ragione, il 27enne della provincia di Napoli colpito da un grosso masso staccatosi dalla parete rocciosa che sovrasta la discoteca. Da due anni la musica è spenta, ci sono i sigilli della Procura della Repubblica di Vardo della Lucania. Ora sulla vicenda interviene la neoamministrazione comunale guidata da Scarpitta che ha deciso di voltare pagina. E' stato annullato in autotutela il contratto di fitto stipulato il 18 marzo del 2014 tra la società Alciclope SRL di Raffaele Sacco e il comune di Camerota. E' stato quindi deciso il rilascio ad Oras dell'area di Maniale in località Mingardo. L'oggetto dell'annullamento riguarda appunto il fitto dell'area alla società di complessivi 5.300 metri quadri, adibiti esclusivamente a discoteche e servizi annessi. Il comune di Camerota è andato oltre cercando di far chiarezza sulla gestione della discoteca in relazione al contratto di fitto con la società Alciclope. E' stata infatti annullata anche la transazione di circa 300.000 euro che la società Alciclope e il comune di Camerota con l'ex sindaco Antonio Troccoli avevano raggiunto sui conti in sospeso. L'annullamento si basa sul mancato parere dell'aggiunta comunale di quel tempo e pertanto la società di Sacco risulterebbe ancora debitrice verso l'ente comunale della sostanziosa somma. Il primo passo il comune lo ha fatto, ora bisogna attendere la reazione della società e dei suoi amministratori che sicuramente non saranno disposti in silenzio a lasciare la grotta. Di pari passo ricordiamo viaggio alla vicenda giudiziaria per la morte di crescenza della ragione. Sacco e gli altri nuovi imputati nel mese di febbraio dovranno sostenere l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Vallo. L'accusa per tutti è di omicidio colposo in concorso.